Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog Qui mia sorella ha comprato un bracciale Qui ho mangiato salata di mare Qua patatine fritte miste Le due persone non sono tre Questo video si chiude qui Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale. Se vostra vita è grigia, sorridete perché avete una vita sola. Ciao, alla prossima!